Ecco Penso che stacca rosa è una su più Don c'hai una curina, faglietta rossa e asciugla vestina Bravo, bravi ragazzi Adiei Giulia Prosti, prossimi Prosti, prossimi Prosti, prossimi Prosti, prossimi Vieni, vieni, vieni Ah la cosa bella Guarda Vieni 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 Chi è Vieni Chi è Chi è Cosa è? PAULIN! Cura! GALI! Cosa c'è? 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 A vo'n OẓLIK ждет тебя, следующее. A VON O'SLIK ждет тебя, следующее... isenye lori... cowboy Cosa c'è? И четы juga o슬k... 여� marketing... three o슬k... Ma cagliacchicolo! Marta, guarda quello piccolo! C'è proprio bellissimo! Siiii! Guarda, guarda! Guarda questo pony! Bye bye pony! Di giorno... Capretta! Benissimo! Dov'è? Che mi esce i dentini? Ciao cucciolona! No! E' una buona! Sì! C'è la buona! Giorgio! Giorgio? C'è stato l'azbeccato! Grazie a tutti. 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 Due ragazze splendide in marzo, Alessandra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come associazione tutte le persone che stanno intorno a te, quindi sono certa, te lo prometto che la prossima volta sarà sempre meglio. Grazie a tutti. No, no, no. Grazie a tutti. 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 Bella che sei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.